con 6 punti di vantaggio sulla seconda in classifica la capolista pro azzurra mozzate affronta il laveno mombello terzo per superare lo scoglio forse più difficile di questo finale di campionato la volontà dei ragazzi di papis è quella di chiudere al meglio arrivare alla sosta pasquale quantomeno con lo stesso vantaggio per avere un buon margine nel rush finale e la partenza della pro è subito vehemente dopo 10 minuti girata in porta di pagani e parata distinto di mattioni che si salva anche sul prosieguo dell'azione col mozzate vicinissimo al vantaggio in avvio di gara in un primo tempo in realtà avaro di emozioni alla sua chance anche il laveno yelmini di testa serve petruzzi sulla corsa il numero 11 scatta sul filo del fuorigioco ma il suo tiro a giro sul secondo palo va a lato non di molto con le immagini andiamo nella ripresa che come detto sarà più frizzante stop e girata di bredice da fuori area si distende in corner mattioni pochi minuti dopo altra chance per il numero 11 della pro azzurra che però manda a lato da buona posizione più mozzate che laveno coi padroni di casa che cercano a tutti i costi il gol ancora una volta però la sfida tra bredice mattioni viene vinta dal portiere ospite stile rivedibile in questo caso ma efficace sul prosieguo palla tenuta viva da chiarioni ma pagani da due passi non riesce a girare in porta porta che sembra stregata visto che su uno scambio pagani cantaluppi ancora una volta mattioni si salva stavolta coi piedi il gol non arriva e la partita resta in equilibrio dopo tanti errori potrebbe approfittarne il laveno che dopo un rinvio sbagliato del portiere recupera palla con ceruti ma carillon solo davanti a ferè manda clamorosamente a lato gli ospiti prendono coraggio dall'azione precedente petruzzi impegna stavolta il portiere di casa attento in due occasioni a mantenere inviolata la sua porta passato lo spavento la pro azzurra torna ad attaccare ma è ancora monumentale mattioni su pagani ma alla lunga gli sforzi vengono premiati lancio dalla difesa spizzata da parte di cremona di testa che manda fuori tempo il difensore ispira la corsa di callini entrato nella ripresa callini si invola verso la porta si mette in proprio e col sinistro incrociare trova il gol che decide il match minuto 41 del secondo tempo esulta la pro azzurra mozzate consapevole di aver segnato un gol di importanza capitale nel match e probabilmente per quanto riguarda il campionato mentre durante l'esultanza della pro viene espulso pivetta in casa laveno per proteste nel finale altra grande chance per i padroni di casa ambup ruba palla sulla destra il numero 17 prova il pallonetto ma il pallone va alto si lotta fino alla fine il laveno prova il forcing finale ma la pro azzurra resiste compie un altro passo importante verso il grande obiettivo finisce 1 a 0 grazie a tutti